Naipri e Zahwalim Ussem Kivariame Teumoc su De Lovania. Permettetemi di porgere, al nome del sindaco del comune di Pirano, un caloroso ringraziamento a tutti voi che credete nella forza della collaborazione. In questo particolare momento storico, in cui tutti siamo coinvolti in un modo o nell'altro, non dovrebbero esistere confini per l'ecologia, la tutela dell'ambiente nel quale viviamo, a tutti i nostri amici. . . . Grazie a tutti